Almeno hai preso l'involucro per tuo nonno? Eccolo per fortuna, almeno siamo assicuri. Ah, è vero. Trottino! Solti da mattina i miei serrati di te! No! L'involucro devo darlo a mio nonno! E questo non è un vampiro, è solo una muta della cicala, è solo il ripugnante e disgustoso ciclo della vita. Pronto a fare la guardia Mortimer? Mortimer! Caspita, ok, Mortimer ha perso la testa e non ci restano addirittativi, dobbiamo uscire! Ma se usciremo, vi darremo massacrare! Matteo! 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 Mi mamma e Laura sono al lavoro. Anche mio padre sta al lavoro. Anche i miei genitori. Anche noi dovremmo essere al lavoro. Che altri possiamo contattare? Accidenti, abbiamo bisogno di più amici. Credete il nostro messaggiero di virgenza? La mattina! Giusto, ok, io prendo un foglio. Oh, potrei prenderlo io? Alla, l'arca... Baby, beh, non ci riscutei una volta. Questa è...